Erano oltre 2000 gli studenti che, partiti da Piazza Cairoli, hanno attraversato le vie del centro di Milano in occasione della Giornata della Donna, una manifestazione per portare l'orgoglio femminista in piazza. Gli studenti chiedono maggiore attenzione, a partire proprio dalla scuola che, a loro avviso, non affronta in modo approfondito il tema della violenza sulle donne e dell'educazione sessuale. Molte ragazze avevano anche viso e mani imbrattate di Rosso nel tentativo di sensibilizzare l'opinione pubblica proprio sul tema delle aggressioni. Il corteo è stato organizzato da Non una di meno, ECCS, il coordinamento dei collettivi studenteschi di Milano e provincia. All'iniziativa hanno partecipato anche docenti e sindacati, molti gli striscioni contro patriarcato e i femminicidi. Stop patriarcato e stop genocidio è stato scritto su un grande striscione rosa che è stato appeso sulla base del monumento a Garibaldi in Largo Cairoli prima della partenza. Un esiguo numero di partecipanti, in tuta bianca e maschera rosa, ha fatto poi un boycott tour, con una serie di azioni da Zara dove sono state imbrattate le vetrine con vernice rossa e attaccati i manifesti. Sono stati lanciati palloncini pieni di vernice a un cartellone pubblicitario di Armani e proteste accese si sono verificate anche nei pressi di Starbucks e vicino ad Assolombarda. I manifestanti sono poi giunti in piazzale Oberdan. Un gruppo è entrato in un McDonald's e si è seduto in segno di protesta, scandendo slogan. Gli studenti hanno concluso il corteo in corso Venezia, scandendo cori contro la guerra e chiedendo il cessate il fuoco su Gaza. Il tutto sotto lo sguardo attento delle forze dell'ordine, ma non ci sono stati nel complesso momenti di particolare tensione. La manifestazione è stata poi replicata alle 18.30, con ritrovo in stazione centrale.